Carlo Parisi, siamo a Nardo di Pace per la dodicesima edizione del Pinocchio in Bicicletta organizzata allo Sporting Club Mileto guidato da Mimmo Bulzomi. Sì, siamo a Nardo di Pace, non si poteva non rispondere all'appello di Mimmo Bulzomi che conosco sin da bambino avendo iniziato a fare ciclismo proprio in una delle gare organizzate da Mimmo Bulzomi a Mileto, la Coppa Città di Mileto e poi per tanti anni anche alla Seggiorni del Sole a livello internazionale che Mimmo organizzava. In più era doveroso partecipare perché il principale protagonista di questa manifestazione è Francesco Moserra a cui mi lega da tantissimi anni un rapporto di amicizia. E poi era un atto dovuto nei confronti di questa città, Nardo di Pace, che purtroppo nel corso degli anni è stata, come dire, è salita agli onori, tra virgolette, delle croneche proprio per essere il paese più povero d'Italia. E quindi questa manifestazione voluta da Mimmo Bulzomi proprio in questa realtà ricordo che Mimmo Bulzomi aveva fatto un'operazione simile anni fa, l'avevamo fatta assieme c'ero pure io con Francesco Moserra, l'avevamo fatta a Platì. Ora questa volta ha scelto Nardo di Pace proprio per testimoniare la presenza, una presenza importante in una realtà abbandonata da tutti, abbandonata da dire dagli uomini, si suol dire. È importante questa manifestazione perché la presenza di un testimone come Francesco Moserra che ha rappresentato l'Italia a livello internazionale, non solo a livello sportivo, perché dal punto di vista umano Francesco è uno dei protagonisti di atti di grande generosità avuti nel corso della sua vita, della sua carriera sportiva e non sportiva. Quindi essere qui oggi a Nardo di Pace significa cercare di contribuire a far comprendere, a far capire che l'Italia è una, e soprattutto anche nei luoghi più lontani e più sperduti, è necessario, assolutamente necessario, avere una presenza significativa dello Stato. Regioni come la Calabria, come il Mezzogiorno Tutto hanno bisogno di cose semplici, hanno bisogno di normalità. La normalità si può raggiungere soltanto con il lavoro e la sicurezza. Senza il lavoro e la sicurezza non c'è libertà e se non c'è libertà e non c'è lavoro non c'è dignità. Ecco, credo che l'impegno di tutti debba essere quello di consentire a tutti di essere cittadini di un Paese democratico, di un Paese libero, ma soprattutto poter camminare a testa alta con grande dignità derivanti appunto da un posto di lavoro. Grazie a tutti.